Siamo qui con Paolo Proli, Head of Retail Division di Amundi SGR. Dal vostro osservatorio privilegiato, quanto è importante l'approccio ESG per le aziende a livello globale? I criteri ESG, le tematiche, quindi i fattori ESG per un'azienda oggi a livello internazionale sono importantissimi. Si pensi a quanto la selezione anche da parte degli asset managers sia sempre più rivolta ad aziende che siano più virtuose nella sostenibilità del loro modello di lungo termine. Il volume complessivo mondiale ha superato i 23 trilioni di dollari alla fine del 2016. Quindi è un mercato, è un business che sta spingendo le aziende a cercare di essere virtuose in queste tre grandissime tematiche. La tematica ambientale, il rispetto delle persone e il rispetto ovviamente delle regole di condotta. Quindi la I per l'ambiente, la S per i social e la G per la governance. Sono diventati veramente criteri di esclusione significativi a livello internazionale. E le aziende che vogliono soprattutto cavalcare quello che è il cambiamento anche del consumo su un pianeta, dove dobbiamo fare anche molta più attenzione alle risorse finite che abbiamo a disposizione, indubbiamente stanno diventando dei motori fondamentali di spinta all'innovazione, al cambiamento, all'attenzione da parte di tutti gli amministratori delegati dei board delle grandi aziende internazionali. Quando si parla di investimenti, l'approccio SG è spesso visto come un compromesso tra etica e performance. Condividete questa visione. Dal mio punto di vista per Amundi non c'è un compromesso tra etica e performance. Diciamo che stiamo anche pubblicando, quest'anno l'abbiamo fatto, le nostre ricerche quantitative sulla performance positiva e il contributo di performance positiva portate proprio dai criteri, dai filtri ESG rispetto al mercato azionario americano e europeo che evidentemente, soprattutto dal 2014 in avanti, stanno portando degli over performance rispetto a semplicemente il posizionamento su questi mercati passivo, quindi sulle grandi capitalizzazioni, molto interessante. In Europa addirittura un 6% di performance annualizzata in più e soprattutto dovuto al filtro relativo alla governance, quindi fare attenzione agli aspetti di governance sulle aziende da selezionare in un portafoglio in Europa è stato molto, molto positivo, un contributore di performance importante. Negli Stati Uniti altrettanto un 3% in più rispetto all'indice di riferimento dovuto soprattutto agli impatti ambientali e quindi all'attenzione di queste aziende e soprattutto su questa dinamica. È ovvio che invece l'aspetto etico di un'accezione di investimento ESG può essere anche solo quella di fare un contributo positivo, ma in questo caso è un aspetto anche esterno alla componente di investimento e quindi cercherai di scindere le due cose e non per forza di avere un compromesso mettendole insieme.